Presentata questa mattina presso l'ordine dei giornalisti della Campania, l'associazione Chicco d'Amore, nata in ricordo di Consuelo Molese e di suo figlio Chicco, tragicamente uccisi nello scorso maggio. L'associazione ha come primo obiettivo il contrasto alla violenza di genere, attraverso iniziative di formazione e di partecipazione. Nella Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura sarà realizzato a gennaio il Laboratorio di Fotografia Sociale Immagini per Crescere, organizzato in collaborazione col Comune di Napoli per sviluppare sensibilità e padronanza del linguaggio visuale e ragionare sulle conseguenze psicologiche e collettive delle immagini diffuse sui social media. La cosa più importante che noi vorremmo fare è che Chicco d'Amore diventi un abbraccio contro l'isolamento, perché la cosa che succede dopo una tragedia un po' paradossale è che ti senti solo e in più si crea anche un grande imbarazzo attorno a te. Noi invece vorremmo far capire che da una tragedia può nascere l'amore e fare in modo che altre persone, che probabilmente sono in una medesima situazione, non si sentano sole. Faremo diverse iniziative rivolte a 360 gradi, dai più piccoli ai più grandi, man mano variando l'argomento di cui parleremo. Partiamo con un workshop di fotografia sociale per fare in modo che i ragazzi sul Comune di Napoli, alla Casa della Cultura di Pianura, possano integrarsi e interagire con le strutture che già lavorano in loco e mano a mano andremo avanti. A febbraio un'altra iniziativa in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti della Campania e l'Ordine degli Psicologi si occuperà dei limiti del diritto di cronaca e del rischio di emulazione legato alla comunicazione e all'informazione. È un'iniziativa oggi che ha un valore sociale importante. L'associazione Chicco d'Amore, il Comune di Napoli con l'Assessorata ai Giovani e l'Ordine dei giornalisti, insieme un impegno non solo per non dimenticare una tragedia, ma attraverso la fotografia che è il primo bando nel ricordo di Chicco, un'immagine per crescere, si possa sviluppare una coscienza della non violenza, della pace, della solidarietà e dell'amore.